Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di come scegliere gli infissi in alluminio. Spesso ci si concentra un po' troppo sulla marca e invece il consiglio che ti voglio dare è prima di scegliere l'azienda. E infatti è più importante l'azienda che ti dovrà costruire la finestra, che ti dovrà posare la finestra e ti dovrà dare l'assistenza nel tempo, essendo l'infisso un bene a lunga durata, se hai fatto la scelta giusta, più importante della marca stessa. Quindi scegliere l'azienda di fiducia, che ti pare di in giro, cerca le recensioni, leggi le recensioni. Una volta che hai trovato l'azienda giusta, che veriti veramente in gambo per il lavoro che devi fare, a quel punto ti puoi concentrare sull'infisso. L'infisso ti daranno delle possibilità di scelta all'azienda che hai scelto e il consiglio che ti posso dare io è sempre quello basato sull'equilibrio. Se stai in una zona molto fredda e dei muri molto isolati e hai bisogno di un vetro camera triplo, quindi un vetro doppia camera tripa all'astra, un vetro bello grande, almeno 5 cm, è inutile prendere un infisso piccolo. Servirà un infisso grande. Se scegli un vetro camera doppio, non hai bisogno di un infisso, nell'alluminio potrebbe essere una sezione da 75, da 85, ti basteranno delle sezioni da 65 mm, perché anche nel caso avrai equilibrio. È inutile prendere un telario di una Formula 1 e metterci il motore di una Volkswagen Golf. Insomma, sì, tiene la strada da paura, ma non te ne fai niente, hai speso dei gran soldi per niente. Poi, oltre alle dimensioni, in questo caso stiamo parlando di spessore, potersi valutare la vista frontale, quindi il design, il tipo di fermavetro, la grandezza dei profili, un effetto tutto vetro, la lezione della scomparsa. Il design lo sceglierai in funzione di quello che ti piace e di come è redatta la tua casa, dell'impronta di stile che gli vuoi dare. Dalla parte del design c'è anche la parte della colorazione e questa è una parte che necessariamente nell'alluminio non ti deve spaventare, perché tutte le marche di profili sono verniciabili in qualsiasi colore e se hai scelto un'azienda fatta come si deve, come ti ho consigliato il punto 1, non avrai nessun tipo di problema in questo senso. Se invece vuoi fare il contrario, perché non mi vuoi stare a sentire, ma va bene, va bene, ci sta, se ti innamori di una marca, come ad esempio Shoupo perché fa dei prodotti veramente, veramente belli, in quel caso puoi vedere la marca, ok, mi innamoro di quel serramento, guardo la sezione, quello che mi piace di più, il design, tutto quello che abbiamo detto prima e poi scelgo l'azienda che secondo me è più affidabile. Come la scelgo? Devo guardare un'azienda che fa quel tipo di marca lì e ti sconsiglio di andare da un serramentista che non ha mai usato quella marca, anche se lavora bene, perché qualche cavolata potrebbe farla. Quindi scegli chi già produce quel tipo di marca e tra quelli che hai trovato, guarda, può essere quello più vicino, ma può essere anche lontano perché c'è un lavoro grande e comunque le aziende si spostano, si sono strutturate e guarda quello che hai recensioni migliori, guarda l'azienda più seria e poi perché no, anche quello che a pelle ti sei trovato bene, perché non è un rapporto sentimentale, però fornitore e cliente c'è comunque il rapporto, deve funzionare perché ci deve essere dell'intesa, ci deve essere che se il fornitore dice una cosa il cliente capisce quello che ha detto e se il cliente dice una cosa il fornitore la capisce. Questo succede quando si è sulla stessa lunghezza d'onda, quando si parlano due lingue diverse è molto difficile che avvenga questo e dopo cosa succede? Succedono delle compressioni che portano nei casi più gravi anche delle problematiche anche di un certo tipo. Spero che questi consigli ti siano utili nella scelta dei tuoi infissi in alluminio, ciao e al prossimo video!